La Biennale Architettura arriva alla dodicesima mostra che in fondo è un gran risultato perché solo alla fine degli anni 70 si comincia a fare, esiste un vero settore architettura e solo dal 1991, quando peraltro lavoriamo anche noi alla Biennale, si usano i bellissimi spazi dell'arsenale. Questi spazi sono cresciuti rapidamente, sono espansi, hanno conquistato piano piano grande parte di questa straordinaria struttura e questo già è una cosa molto rilevante per la città e per il mondo dell'architettura. Come Biennale, come progetto curatoriale, è veramente una Biennale curata da un architetto, cioè Sejima ha fatto un progetto di mostra molto personale, molto autodescrittivo, cioè è una specie di riflesso del suo modo di pensare al mondo e all'architettura. Questo si vede benissimo soprattutto nella prima sequenza degli spazi dell'arsenale che sono direi l'icona di questa mostra, in cui ci sono pochissime cose, sette lavori in cui si mischiano architetti, artisti, poeti, filosofi e descrivono un po' il mondo che lei considera necessario per ripensare l'architettura. L'altra cosa interessante è che negli anni si è un po' rovesciato il rapporto che c'era tra i due padiglioni principali, cioè le corderie e il padiglione ai giardini e i padiglioni nazionali. Oggi forse le cose più interessanti, a differenza del passato, si trovano nei padiglioni nazionali, soprattutto il padiglione giapponese che è sempre, come dire, 15 anni più avanti, che per la prima volta mette anche in discussione il concetto di spazio pubblico, che è un concetto di trasformazione della città che è un po' alla base teorica di questa mostra, il padiglione olandese che è molto molto interessante sul tema della trasformazione, il padiglione rumeno dove c'è una inattesa performance di un giovane architetto molto bravo. insomma ci sono molte cose interessanti. Direi che è proprio, a differenza di altre mostre recenti, è molto più tagliata, molto più tagliata sulla figura dell'architetto, che non è un curatore ma che è soprattutto un architetto.